Ciao ragazzi sono Valentina di Duit, oggi entriamo in zona rossa ma non preoccupatevi noi non vi abbandoniamo anzi abbiamo pensato per venirvi incontro ulteriormente da oggi fino al 21 di marzo quindi per l'intera validità di questa benedetta zona rossa per chi si iscrive a un corso in Duit, qualsiasi corso vi regaliamo noi il 50% della quota di iscrizione vale a dire che avete la quota di iscrizione bloccata alla metà del prezzo quindi per tutto l'anno di validità della stessa parlo sia della quota degli adulti sia della quota dei bambini e dei ragazzi ci sono tantissimi corsi nuovi in partenza quindi approfittatene chiedeteci tutte le informazioni che volete siamo a disposizione e se non lo avete ancora fatto svolgete direttamente online il nostro test di livello noi vi aspettiamo